Ho sempre sognato di navigare oltre gli orizzonti. Lui arriverà a coronare un sogno che ha sempre avuto. Ora sto per rendere questo desiderio realtà. I nove mesi in solitario, la barca con la tecnologia di 50 anni fa, tantissime cose sono estreme. Questa legata non è l'importante lince, conta arrivare in fondo. Non ci sono i dieci comandamenti, c'è solo un attesamento che viene dalla tua capacità di reagire. Siamo partiti. La prima volta che lui ha navigato da solo in solitario sotto la barca ha coinciso con la partenza del suo giro del mondo. Se ci pensi è una cosa pazzesca, folle. 30 noti di poppa erano solo un assaggino di quello che ci aspetta dopo le quattro ore. È un caos, è un pentolone. Nella vita certe cose non si devono provare. È una notte infame, tremenda. Si fanno e basta. È una notte terribile. Arriva vento, arriva, 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 arriva. Grazie a tutti.